Siamo alla cronaca, due arresti importanti. Oggi nella notte in Spagna i carabinieri hanno fermato Gennaro Esposito, latitante del clan Mazzarella a Dubai, arrestato dalla polizia il narco trafficante Raffaele Mauriello, considerato tra i latitanti di massima pericolosità dalla direzione centrale della polizia criminale. Non si conoscono ancora i dettagli dell'operazione di polizia avvenuta alla vigilia di Ferragosto a Dubai negli Emirati Arabi, ma l'arresto di Raffaele Mauriello, solo 32 anni e già nella lista dei latitanti più pericolosi, è un duro colpo al narco traffico. Era lui, secondo gli inquirenti, a curare l'importazione e la distribuzione di grossi carichi di cocaina per il clan napoletano degli amato pagano, un sodalizio criminale che a colpi di omicidi aveva scatenato la terza faida di Scampia. Proprio in relazione alla mattanza di quegli anni, Mauriello è accusato del duplice omicidio di Andrea Castello e Antonio Ruggero a Casandrino nel 2014 e di Fabio Caffasso nel 2011 a Napoli. Il Ministero della Giustizia ha già avviato le procedure per l'estradizione ed è in attesa dello stesso provvedimento in carcere in Spagna Gennaro Esposito, 34 anni, detto Jenny Cape Bomba, arrestato dalle autorità iberiche allertate dai carabinieri di Napoli a Barcellona dove viveva da oltre un anno. Figura di spicco del clan Mazzarella si occupava di reinvestire in attività pulite il fiume di denaro sporco proveniente dal business delle estorsioni. L'ha tradito l'amore, i carabinieri tenevano d'occhio la sua compagna che ha provato a raggiungerlo in Spagna. Jenny l'aspettava all'aeroporto e lì sono scattate le manette.